Musica Nell'ambito del programma Fuori Expo della Regione Basilicata, il 3 ottobre 2015 si è svolto a Milano, nello spazio della Mondadori Multicenter, l'iniziativa organizzata dal Gal Coswell in collaborazione con la PT Basilicata dal titolo Basilicata Magica, borghi letterari. La mission del Gal Coswell è quella che attraverso il piano di sviluppo locale promuovere azioni innovativi in grado di dare voce ai nostri borghi. Azioni innovative che possano promuovere lo sviluppo locale dei nostri borghi, soprattutto quelle azioni che determinano uno sviluppo compatibile del nostro territorio. I nostri borghi, la nostra storia, la nostra cultura sono determinanti per qualsiasi azione di sviluppo e noi siamo qua proprio per far conoscere quali sono le nostre tradizioni, qual è la nostra cultura per far sì che ai milanesi, ma al mondo in vero, che il nostro territorio è un territorio interessante, un territorio da visitare, che può affrire a loro molto e questa azione ci consentirà di avere effettivamente un'azione di sviluppo compatibile con il nostro territorio. Noi rappresentiamo un territorio della Basilicata che va dall'Oionio al Pollino, quindi la porta dell'Oionio con la Magna Grecia, con il comune di Bernalde e le colonne di Metapondo, fino alla porta del Pollino con il comune di San Giorgio. La peculiarità di questo territorio, in particolar modo dei comuni dell'entroterra, che qui sono anche rappresentati un po' tutti con i figuranti di vari eventi, sono le nostre tradizioni e hanno quasi tutte un'origine comune, che viene narrata anche in alcuni libri andropologici o di etnologi, che sono riti legati un po' tra virgolette alla magia, alla fashion, che rendono però il nostro territorio molto fascinoso, soprattutto in questo momento. Pisticci, uno dei cento borghi più caratteristici della nostra piccola grande Italia, arriva lo scorso anno nono in una classifica stilata dagli stilisti Dolce e Gabbana, che ritrovano nel nostro territorio quei profumi, quelle forme di colore, che appartenevano ad una tradizione, ad una realtà ormai remota. Pisticci, che ancora nel suo centro storico vede questo straordinario rione, che è il rione di Rupo, si chiama così perché nel 1688 una terribile frana portò oltre 400 nostri concittadini alla morte. Poi fu ricostruito e da qui nascono queste casette bianche, che da qualche mese hanno ricevuto questa revoca del decreto di trasferimento dell'abitato, per cui sarà il rione di Rupo per Pisticci, quello che i sassi sono per la città di Matera. Ancora il nuovo borgo Marconia, che oggi consta di circa 11.000 abitanti, una forma diciamo urbanistica, architettonica più nuova, più moderna, che fa da collettore con il nostro mare. 15 chilometri di costa, che vede oltre 7.500 posti letto di strutture alberghiere accreditate, un porto turistico, quello del porto degli Argonauti, 24 lidi. Il professor Giuseppe Zita nel 1901 definì il gioco della falce di Sant'Giorgio Lucano un costume antichissimo e caratteristico. Ha per sfondo il gioco della falce il bene prezioso del grano e le aspre lotti per conquistarlo o per difenderlo. È nato sul mito e sulla storia. Sul mito i primi due atti, la caccia e l'uccisione del capro, la sposa del grano nel secondo atto. Noi riteniamo, contrariamente all'etnologo De Martino, che non è frutto di superstizione, di ignoranza o di magia, ma ha il suo fondamento sul mito. La terza parte, forse la più nota, la più conosciuta, la più recente, ha per sfondo la storia del paese. È una vera e propria rievocazione storica dell'origine e della dominazione dei principi e pignatelli sul territorio. Tradizioni, storia e soprattutto cultura è il nostro territorio, dove vede in Tursi il famoso poeta Albino Pier, famoso per la sua poesia dialettale, in dialetto tursitano. E tra i parchi letterari famosi della nostra Basilicata abbiamo quello di Isabella Morra e quello di Albino Pierro, dove quest'anno si festeggia il centenario della sua nascita e il ventennale della sua morte. Le manifestazioni saranno il 23, 24 e 25 ottobre, proprio a Tursi, dove ci saranno diversi professori universitari che parleranno del nostro poeta Albino Pierro, famoso non solo a livello nazionale, ma anche a livello internazionale, dove è stato tradotto in diverse lingue, dall'austriaco al tedesco, allo svedese. Quindi noi puntiamo molto su un turismo culturale, dove crediamo di abbracciare queste diverse nazioni estere. La definizione più bella di parco letterario è stata data qualche tempo fa da una bambina che è venuta in visita a Valsinico e alla sua scolaresca e ha definito il parco letterario come uno scrigno. Uno scrigno che contiene all'interno le tradizioni, la vera anima di un posto e che riesce a creare un legame tra la poesia, le persone e i luoghi che quel posto ancora oggi riescono a proporre ai visitatori che vengono quasi in una sorta di pellegrinaggio, alla riscoperta di una tradizione ormai perduta, alla rivalorizzazione di una poetessa quasi sconosciuta e che pure dal 1500 riesce a far sentire con forza la propria voce, una voce di libertà, una voce che può essere monito a tutte le donne. Il parco letterario in realtà non è un insieme di eventi, ma è un progetto di sviluppo socio-economico di un territorio. Sociale perché vuole riscoprire quella che è l'anima intrinseca di un posto, un'anima che non può essere copiata e riprodotta altrove, quindi la chiave del parco letterario è la sua autenticità. E poi di sviluppo economico perché attraverso la promozione di un posto, la promozione di un luogo, si vuole creare impresa intorno a tutto quello che di reale esiste in quel posto. Basilicata Magica, i borghi letterari, è stata l'occasione per far conoscere al numeroso pubblico a corso la variegata offerta turistica lucana, che spazia dai paesaggi sorprendenti alla poesia di borghi, dalle storie tutte da ascoltare. Grazie a tutti. Grazie a tutti.